L'Istituto Spallanzani ha annunciato tre nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Si tratta di una donna, contagiata insieme al marito e ad uno dei due figli. Nella giornata del 27 è giunta spontaneamente, presso il nostro istituto una giovane donna, residente a Fiumicino, con lieve sintomatologia e link epidemiologico, in quanto ha soggiornato in Lombardia, in particolare in provincia di Bergamo, si legge nel bollettino. La donna è risultata positiva al test, che è stato confermato anche dall'Istituto Superiore di Sanità. Per questo, in via prudenziale, lo Spallanzani ha provveduto, ieri in tarda serata, a ricoverare l'intero nucleo familiare.I test effettuati dall'Istituto risultano positivi per il marito della donna ed uno dei due figli. Nelle prossime ore si effettueranno i test di eventuale conferma, spiega il comunicato. Il marito ed il figlio della donna avrebbero lievi sintomi, ha quanto detto dai medici dello Spallanzani. Sono stati ricostruiti tutti i contatti della donna. Già attivate da ieri tutte le sorveglianze sanitarie sui contatti avuti. Abbiamo ricostruito l'intera filiera localmente ed in Lombardia, all'Alzano Lombardo. E lo stesso è stato fatto con la tracciatura degli spostamenti, ha dichiarato Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. Grazie a tutti!